Ed eccoci qua dopo il crash del gioco che è stato fortuito perché mi ha fatto notare risentendo quello che era stato registrato che Shadowplay ha deciso di cambiare il device di registrazione audio e quindi ci sono state delle puntatine mute però adesso la mia voce fortunatamente o sfortunatamente riuscirete a sentirla Dunque dobbiamo andare in questa direzione qua verso il magazzino che ci ha fatto crashare prima vediamo se ce la facciamo o se il magazzino è buggato per sempre Tra l'altro abbiamo tutto il party I tipini questi di prima li dobbiamo riuccidere va bene Noi li riuccidiamo ben volentieri Che dite team Ok Bei danni bei danni Lei comunque quando diventa invisibile va dall'altro lato del mondo a muzzo e sai che c'è io glielo levo proprio dalle Dalle tatti che sto Sto coso che vuole diventare invisibile lei Ce ne frega niente Questo è esploso non so come E' proprio letteralmente esploso quel tizio Non so che diavolo di danni abbia preso e da chi Comunque sono fighe ste lame che c'ha lei Sembrano molto pesanti e rompipalle A livello di stile C'hanno il loro pubblico Vediamo un po' Confido eh Ok ha funzionato chissà perché prima è crashato Non lo sapremo mai Eh vabbè già lo so qua giù sponeranno 50 nemici Un vecchio classico Sembra tutto così vuoto qua dentro Che succede Tutto così vuoto e tranquillo E soprattutto perché hanno le finestre così in alto in questo posto Ascia del sangue Niente di utile E quelli sono sponati dietro alle nostre spalle A buffo completo Questo è proprio apparso dal nulla Perché è un assassino Au L'abbiamo accusato qua La facciamo a far fuori St'assassino Prima che faccia danni Eh non è che gli fa Bei danni al tipo Ah però non ho neanche tirato la speed Sono stato sciocco io Posso pure fare Mavari Speed dal mondo E lui lo facciamo forzare Madonna che crocca Che frega L'abbiamo appena vinto Ok Quindi tutto a posto Che livellino eh pure Allora devo riattivare questo io poi Vediamo un attimo Livelliamo Facciamo così Gli dobbiamo mettere il punticino Gli possiamo mettere questo Che è l'impulso spirituale Che è tra bocca di energia scura Investendo in nemici con un'esplosione di forza spirituale Fantasma delirium deve essere attivo Che è questo Preso A lui diamo Dex Astuzia e cost E gli possiamo dare dei punticini in mastro tiratore naturalmente Canto di bianca Fischietta è una melodia Sembra essere una questione quindi probabilità di colpo critico 20 Attacco più 20 Riserva 15 del vigore Wow questa è stonks Schiavi una raffica di 3 dardi Trasformando il bersaglio in un puntaspiglio Questo qua che aumenta i danni Mi sembra molto Molto bello e simpatico E li posso tenere pure entrambi Oh bene bene Andiamo a lootare Ok Cavolo mi spiace proprio per quelle puntate senza l'audio Tra l'altro poi vediamo un po' Eh come al solito no Non c'ho neanche il salvataggio per tornare indietro Secca questa l'ho presa Guantacci Campione del carico di Marti Bene Andiamo di qua Sicuramente qui ci sarà qualche lutino aggiuntivo inutile Ma ci sarà Randello del pirata Hmm Niente male questa Abbiamo l'inventario pieno però Due randelli del pirata Non so perché mi si è accesa l'arma per un attimo Un po' si è spenta Ma ok Ahà Sta scioccatissima E devastata di danni pure Sì Non capisco perché non mi fa tirare Ah perché non c'ho attivo questo L'è andata giù Maledetto assassino Pensavo che fosse morto Non l'ho visto che Semplicemente non si era palesato per un po' E lei mi ha livellato Nice così le possiamo dare un punticino a costituzione Perché è fatta di polistirolo Ora caratteristiche Dex, astuzia, cost E poi poi Vediamo un po' qui che ci abbiamo Dritto a pruga, questo era il saltone Quello che lei faceva Che si lancia verso i nemici Che però le fa prendere mano esperta Che è una passiva Che le aumenta tutto Quindi vai Stonks Presa Ox Ci abbiamo tutte le cose da attivare attive Possiamo tornare al porto Senza crashare Perfect Dobbiamo ritornare da questa parte Vediamo un po' Cavolo Sto a ripensare al fatto che ho parlato da solo con Pirla Per praticamente quattro episodi Per poi scoprire che non mi ha registrato l'audio Mannaggia la puttana E vabbè vabbè Dobbiamo andare di qua Eccolo qua Questo dirà No, tu non vuoi passare No Abbastanza honest Sta affasotto eh Cagata sotto Isabella Ecco perché c'era un forma Il tuo gruppo qua Quindi Isabella non viene Eeeh Puttiamoci Anders che era mezzo sistemato Deve pure livellare Ma vabbè Ander if you must Javaris Eccolo qua Cos'è? Sembra un abominio No è solamente un coso gigante Ok Ah lui sa anche parlare la loro La loro lingua Figo Come no N ghost Eh Kunari Do not abandon a debt I humbly request clarification From the Arceck I have a growing lack of disgust for you The dwarf imagined the deal for the Gatlock He invented a task to prove his worth When he has none Then we have wrongly inserted ourselves In your affairs Would you have us kill this dwarf? Aspetta, cosa ora? Se hai avuto Talvashoff, non è vero di morire a te, come non è vero di morire a loro. Ma tu, guarda bene. Lasci lui vivere, e riusci. Ho fatto il lavoro di dolore, quella morta sta. Cosa, Dwarf? Hai capito, come c'ha il buffo e... si è inventato tutto, c'ha il buffo, adesso gli lanciano una spada in petto. Ecco. C'è anche la faccia tosta di fare il rimostrante. Non c'è denaro per te qui. Missione completata. Benissimo. Questa parte l'abbiamo sistemata. Anders, possiamo anche scartarlo adesso. Ciao, Anders. È stato bello averti in party quei sette secondi per non dire nulla. Bravissimo. Andiamo avanti con il resto del party. Yes. Dobbiamo andare all'impiccato a sistemare la missione oggetti smarriti. Andiamo. Ma non eravamo già passati qui e poi non avevamo trovato nulla. Erano successe cose. Mica mi ricordo. Fammi da nocchia un po'. Ma veramente? Lo sta prendendo per il culo. Che pirla pure lui, eh. Ecco Martin. Che è quello dei pacchi che è del pacco che abbiamo rimediato prima, no? Ma com'è tutto regolare? È un poesone. Ucciona le persone. Io solo lo vendio. Non sono responsabile per quello che le persone fanno con lui. Quindi, dove è? Non lo diciamo, ma non ci frega niente. Anche perché è un amico di lei per cui è apposto così. Ok. Isabella e Varric sono d'accordo. Quindi va benissimo così. Direi nessun problema. Andiamo giù di qui. Andiamo qua. Dobbiamo consegnare la missione della Fossa delle ossa. Andiamo a consegnare la missione a Roberto. Ma come? Ma come? Ogni Dragon Age pensano che sia estinto l'ultimo drago e invece ci sono sempre i draghi. Perfetto. Perfetto. Ma coraggio. Vabbè, però in effetti gli dà un lavoro. Ma coraggio. Vabbè, però in effetti gli dà un lavoro. ciò come cosa. Certo, potrebbe andare meglio, ma... Che devo fare? Odè qua? Il pomo di Eustice. Che cazzarola di missione è? Emo quando arriviamo là davanti controllo il pomo di Eustice. E chi è? Chi l'è Eustice? Eustice. Allora, il pomo di Eustice. Allora, il pomo di Eustice. Ci ricadere dei segni dei denti. Questo pomo è stato perso durante uno scontro violento. A parte il nome che vi è inciso sopra, sembra un normale oggetto in dotazione alla Guardia Cittadina. Vediamo. Ma il pomo intende il pomolo. Il pomolo dell'arma. Giusto? Pomolo si chiama, non pomo. O anche pomo. Può essere che si dica anche pomo. Non lo saprei onestamente. Non sono un esperto di... di pomelli dell'arma. Io sapevo che si dicesse pomolo o pomello. Però più pomolo. Però magari anche pomo è corretto. Ah, addirittura ce ne abbiamo ben due di missioni qua. Andiamo di qua a parlare col Siniscalco prima. Ormai questa settimana stiamo consegnando una marea di roba, praticamente. Quattro. 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 ho trovato il ragazzo e il capitolo del Qunari alla costa morta. Io prendo una tutta compagnia dopo loro. E quando arrivo, lo aspettavo di fare un mostro di riempire. Ma, donna. Si, che si parigona. I kunari modificati di Dragon Age 2 Accettiamo, why not è una missione in più? Male non fa E lo riportiamo a fette Gli inverni Ok Questa pure è rimediata Ma andiamo a consegnare quest'altra Sembra un po' Il 2 c'ha molto quell'area da MMO Che vai e consegni le quest Sai quando ritorni in città su World of Warcraft E consegni quelle 7-8 quest che hai preso Con l'unica differenza che qua manco poi uscita la città Aveline che ci dici? Varick, no Oh, you're the captain Or you will be It'll be easy I'm not petitioning the Viscount to help you steal ownership of the hanged man Steal? Madam, you wound me Ha rosicato, eh? Big changes are coming, huh? Captain of the guard Thank you, Wesley That you keep his memory speaks well He's not with me I know that Wesley's at the maker's side Or he's not Either way He knows no pain What I keep is that moment I won't let anyone down like that again Hmm I can't imagine the captain of the guard will like wandering in my shadow I know what you get up to And soon the whole city will be my responsibility Which means someone will need to keep a close eye on you Ah, vabbè, easy Infatti, dico cavolo, perdere un companion così da un attimo all'altro Per quanto non la stiamo più usando Ma se sa mai, magari ci torna utile Thank you for helping me get here, Hawk It's where I should be Assolutamente Un capo delle guardie di cui ci possiamo fidare Era proprio ciò che ci serviva Andiamo più avanti Finiamo sta parte qua E qua che c'è? Hey, hey Trattato del quinto flagello Vabbè, lo prendiamo per prendere l'expo Ma L'avevamo già letto su Su Dragon Age 1 Le robe riguarda i vari flagelli Guardia e Ustice I think I found something of yours I think I found something of yours Dammi i soldi E anche questa è fatta Vediamo se abbiamo altre 27 missioni da consegnare o cosa Che dobbiamo fare? Mmhm Mmhm Dobbiamo andare alla città inferiore A dire ai tizi che le miniere sono aperte E nel mentre io cercherei anche il tipo delle rune Che mi pare stava qua da qualche parte Forse Armatura Merci Sarto Bazar Armi No Sai che stava nella città alta quello delle rune Perché lo blastano ogni volta? Povero Cristo Lo chain blastano A ogni occasione gli rompono i coglioni Veramente Povero elfo Povero povero elfo Allora dobbiamo vendere un po' di roba Eh Te ste fuffacce qua Tasta merda Butta via tutto E poi andiamo a vedere sta missione Dopodiché voglio cercare il tizio delle rune Per mettere la runa a lui Che gli aumenta la difesa Che è qualcosa in più Migliora l'attacco Ad Aveline però questo Questa cosa che l'hanno messi random così tra i vari C'è proprio casuale così Jansen Quello di prima Ah no questo è quello Sì è lui Quello che abbiamo tirato fuori dalla miniere A me da per uno Stanno embriachi a mezzogiorno C'è un po' di roba Ma come? Ma come? La missioncina in zona, vediamo un po' che si può fare Mi sa che era qua quello delle beni del mago No Prendiamola questa Runa antifulmine, runa antifulmine Detta stretta runa antifulmine Vediamo il vendor che c'è qua, che roba c'ha Che forse c'ha qualche upgrade magari per l'armatura Degli altri bobois Tra l'altro a proposito di armature e cose Questi qua c'hanno Cioè non c'hanno roba per le Per le rune No? I coltelli si in realtà Questa è buona Però non siamo riusciti a trovare Quello che Che applica le rune Se non sta alla città inferiore Qua sarà quella superiore Immagino Si spera pure perché Insomma E poi non sta qua tutto il giorno Ma quale diavolo era il vendor Che metteva le cose Andiamo alle scorte di Bodan Ma da Bodan non c'eravamo ancora andati È da lui che se fa l'enchantment Enchantment Da sandal Beh Enchantment Questa è quella del 17 Ce ne ha addirittura due Ah lei qua le diamo Quella dell'impatto E qua quella dell'impatto E invece per le armature Questa è quella che c'ha lui No? Credo Credo c'è talmente tanta zella Qua in giro Che non si sa neanche Ah no però vedi te lo dici In uso da Garrett In uso da Garrett Ok E vai Garrett Mo c'è un po' più di armatura Questo l'abbiamo sistemato La merce di Bodano Sempre la solita zella Però ste pozioni Sai che c'è Gli le compro tutte Perché male non fanno Tanto ci abbiamo 28 sovrane Dobbiamo poi arrivare a 100 Mica poco Mica poco E contanto che i nemici Non responano Bisogna pure fare attenzione Perché sennò rimaniamo Rimaniamo fregati Aspetta un po' però Perché Ah no Loro tanto non possono usarle Le altre armature E' vero Ogni volta mi faccio fregata La faccenda Ma Ups Ho venduto questi Questi sono da mago E sono buoni Livello 11 E Quelli che ho Sono meglio Livello 13 Quelli che ho Sono meglio Via 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 Questo qua Lo scatto lesto Non è male Devo dire Non è male Non è male Mi sa che lo scatto lesto Lo uso E il lungo viaggio Lo vendo Tanto Tanto un valgono Una pippa Sti cosi Per cui Aspetta Aspetta C'ho anche I cosi qua Never mind Non c'ho niente Arrivederci Arrivederci Ah qui possiamo ordinare Le rune pure Impatto Ci vuole Lirium Però tanto Per il momento Quelle che dovevo mettere Ho messo Adesso diventa Una rottura di palle Perché dobbiamo Poi toglierle Rimettere 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 Lupo La pecorella Smarrita Andiamo Per quanto Io credo Che sti armi E sti armature Non le toglieremo Mai Questo è il mio Vago sentore Allora Dobbiamo andare De qua E qui Sicuramente Ci assalterà La gente Perché è notte La notte è pericolosa Sorella Petrice Questa è un gran cazzaro Probabilmente Eccolo là Ma la pannapezza Sì Non è pazza Dai È solamente Ingenua Always money In saving fools Andiamo Facile Devastati Devastati Questi Sono durati Un secondo Con Con la spiglia Smembrati Porco Porco Certo L'integrità Nella città Bassa Magari Skill Pure pure Ma l'integrità Vedo dura Ok Ok Sembra che sia vestita Con qualcosa della Della centri no? Della chiesa Perché ci ha messo dieci ore a aprirmi la mappa Se sta scrocchiando il gioco Che è successo? Fiamola apre instant Non so c'è avuto un attimo di incertezza Vediamo sto lupo e la pecorella smarrita Va Quindi è una scorta Non è una escort Va bene Vieni dal punto Questo è come il... Il modello... No come cavolo si chiamava L'avevamo combattuto in Dragon Age In Awakening mi pare Mi pare in Awakening Sì alla fine Di Awakening Alla fine di Awakening Però mi devo ricordare come diavolo si chiamava L'architetto 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 Che però l'architetto Non era un kunari ovviamente Era un umano che poi è diventato un darkspawn Somiglia all'architetto Questo qui alla fine è un kunari Quindi non c'entra una mazza Però C'era questa... C'era questa... Questa somiglianza Andiamo sotto i labirinti della città E vediamo che ci può capitare E calla Subito Subito dei ragnacci E delle trappole pure Lui sta proprio fermo così Scusa Un mago kunari potrebbe fare 3000 danni E decide di non farli Wuf 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 Andiamo col wuf wuf Oh Che fastidio Lei fa dei gran dannoni Ci abbiamo tutto attivo Sì Adesso sì Devo andare con lei Che c'ha La sicurezza antitrappola What? Ma da invisibile Mi ha tirato la zella Invece l'ha la speed Sì Attacca 3000 all'ora E anche questa è fatta Ox Andiamo sopra Stanno un botto di trappole qua Parecchio infame sto posto E niente Lo schizzetto te lo devono dire a prescindere Lui tira delle cricche infinite Io non capisco perché lei Per qualche verso mi sembra come se Facesse non tanti danni Però ce l'ha Ce l'ha alla fine i danni I danni sulle cose Non lo so Bisognerebbe provare Ci fosse Manichino Qualcosa del genere Magari c'è Ah però ovviamente Questo le abbassa i danni Per ogni nemico E le aumenta la difesa Che c'è posta Questo riapplica i danni inflitti Quindi sì Giustamente Se disattivassi questo Secondo me farei più danni Vediamolo subito Contro questo Ma che buona Ma che buona È un buon consiglio Da ascolto a quello furbo Anzi Le nostre fogne Cos'è Vabbè No Mistakes were made ragazzi Non avreste dovuto dire Uccidetelo Sembra faccia più danni Oh mamma mia Ne sono spawnati 94 Aspetta un attimo Veniti Quell'indoppia corda Da dietro Che sono arrivati Come al solito random Calmius Casi sua È pericoloso Sto ragazzo Peligrosso Peligrosso Allora Andiamo qua Arbaulet Faccio vedere Irbaulet Andiamo di qua Di qui E di qui Di qua C'è un altro Baulet Lutiamo tutto Stivali Anello Forse l'anello Potrebbe essere qualcosa De 16 attacco Magari Magari Possiamo mettere Questo qui A lui Così c'è altro Attacco in più Dai Che schifo Non fa L'abbiamo portato Fuori Che ragazzo Però non erano Gli accordi I crimini purificati Che diavolo è successo C'è qualcosa Della storia Che a noi Manca Però Molto singolare C'è un titolo Che problemi C'avete Sentiamo questa Perché mettere Un collare I vostri maghi Vediamo un po' Potrebbero ucciderli direttamente Piuttosto che fargli fare Una vita di merda Ma anche io sono un mago I will the same power And I'm no danger to you Unless I choose to be You Are Sarah boss Boss Sarah boss Vashedan Neyrah Setar Karasam You spewed Your words at me Like a demon Trying to poison my control Like this mage The cube requires Ma no Ma Perché è impazzito così Out of nowhere No Finirà a botte Ecco Me lo sentivo Oh Ehi 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 Che crocca eh Devo castare la speed A tutti Più rapidamente Possibile Appena mi ritorna Un po' Un po' di mana Ma in realtà Posso far così What? Ma è esploso Quest'altro E dai Vai Ui 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 Buon in attimo Ferminà Piano piano E carichiamo partita Con calma È successo Un disastro Poi subito Dopo Il Ok Allora buoni Buoni in attimo Devochiamo il cane Diamo la speed A tutti E diamo La curata A tutti Poi ci possiamo Poi blocchiamo Quanti più nemici Possibile E vediamo un attimo Di far fare i dannoni A tutti quanti A Sti nemici Questi sono Tostarelli Devo dire E facciamo tirare la cosa Non è buona Non è buona La situazione Specialmente Con questo Bossettino Addosso Al nostro Amichetto Nano Lei sta Assogando A bestia Perché non si può Curare Baby Vai 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 Che facciamo Pure Harvard Qua Ne arrivano altri Però dovremmo riuscire A tirarlo giù In teoria Dai dai che mi arriva La cura Di gruppo Yes Abbiamo tirato giù Il pericolo Più grosso Quindi Dovrebbe essere Tutta discesa In teoria Si sono andati Sono andati Dai dai Non è stato facile Sto fight Devo dire Per niente L'ha rotta Che c'è fatto Ah lui non poteva parlare Per colpa di Di quella Verga di controllo Come se fosse tipo La verga di un golem Praticamente Ok Ma non mi dì Ma quindi è un companion Questo adesso C'è un altro Mago companion Non è vero Non è vero Non è vero Mi savo la willa di Arvarad Mi devo riuscire Come si chiede È la ricetta La cune Ok Quindi dopo tutto questo Ora vuoi morire Non vuoi morire Non vuoi morire Voglio vivere Con la cune Che significa Sì È stupido È stupido Mi posso dare consigli Tornare dalla sorella La sorella Però lo voleva Solamente spostare Da darlo a qualcun altro Unisci E' un'altra Voi Non è vero È parecchio chiuso Indottrinato il ragazzo Io però mi rifiuto Di accettarlo Anche questo è vero Anche questo è vero Anche questo è vero Compa Si è dato fuoco Ma no Ma si è immolato Così da solo Non ha neanche urlato Micchia Rimarranno solo Le due palle Gigantesche D'acciaio Che ha avuto Nel darsi fuoco Eh infatti Andiamo a vedere In posta Petrizia Qua Petrizia Mui andiamo a spezzare Anchette A Petrizia Perché ci ha proprio Preso per il cu Ci ha preso Per il cu No Merda Perché ho cliccato qua Ehi Tra l'altro Scusa un attimo Conte in sospeso No Ma E quindi dove cazzo Peccato che non ho cliccato Sulla missione Per vedere dove diavolo Bisognasse andare Per fare il lupo La pecorala smarita Eccolo qua Vabbè era quella la missione Eh voglio finirla Sta missione Voglio capire Che diavolo Sta succedendo Adesso questa Dirà ragazzi Ammacciateli tutti quanti Perché sono dei cattivoni Ecco l'acqua Troppo tardi Andiamo a quella seconda Cos'è partita La musica di Skyrim What? What? Dovrei ammazzarvi entrambi. E quindi cosa vuole fare? Scappare? Vabbè, vi siete fatta un nemico. Che simpaticona, eh. Che simpaticona, che simpaticona. Meritava di essere fatta a pezzi, sta tizia. Peccato che il gioco non ce l'ha fatto fare. Bene, ok, signori, siamo di nuovo alle città bassa. Vi direi che ci possiamo fermare qui questa settimana. Ah, purtroppo mi spiace per quelle 3-4 puntate che verranno senza l'audio. O meglio, senza l'audio della mia voce, perché l'audio del gioco c'è, non ha registrato il microfono. E ci vediamo la prossima settimana, sperando che si sia risolto anche il problema degli upload, in maniera tale che io riesca a oppare gli episodi senza dover lasciare il PC acceso per una settimana intera, oppare notte e giorno, perché non è che sia proprio la miglior cosa. Anche perché se si spacca qualche pezzo poi lo devo sostituire e i pezzi costano un pacco di soldi. Specialmente in questo periodo in cui i bagarini comprano i pezzi per rivenderli al triplo di quello che valgono e se si scoccia una scheda video se piagne. Quindi, tale è tutto. Come al solito vi ringrazio se siete arrivati fino a qui e vi invito a seguire il canale se già non lo fate. Come se non lo fate, ancora. Quindi tale è tutto. Bella vips. Alla prossima. Ciao!